Grazie a tutti. 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 a fronte proprio del quesito che era sorposto a suo tempo dai primi consiglieri. Sono un po' giocato. In quest'ultima video, nel senso che... Quindi, stai dicendo che ci sono delle persone che ci stanno ripetendo. Io sono assoluto a far forza anche voi, non lo so, pensando che queste persone siano autorizzate a farlo e non stiamo prendendo nessun collegamento. L'abbiamo detto all'inizio, il secondo intervento ne faccio. Io non posso alzarmi fisicamente dal video camera. Ma lei penso che non possa neanche farlo. Non può farlo, però probabilmente può chiamare qualcuno. Può farlo, no? No, io in primi schiedo al cittadino che sta riprendendo senza nessun tipo di autorizzazione, perché non ha appunto nessun tipo di autorizzazione da parte di questo consiglio e soprattutto perché non è stato né accreditato, né si è identificato, né ha portato una richiesta di spenderlo in camera. Volevo solo fare una sottolineatura, visto che si sottolinea il fatto che questa persona ha chiesto l'autorizzazione. ha chiesto l'autorizzazione. Allora, punto quello che io non sto sul computer la mattina e la sera, punto quello che io non sto sul computer la mattina e la sera. per cui nel momento in cui io non vedo il documento, il documento rimane lì. In più, ripeto, va fiammato. In più aggiungo che qualora fosse a passo all'inizio di seduta se ne poteva discutere, ma non a parte la seduta. E termino dicendo che a fronte di richieste legittime all'interno di Costituzione dove vengono accartati i dipartimenti, a fronte di un fatto che l'autorizzazione non c'è, speravo e consigliavo nel consenso di ciascuno, per cui nel momento in cui arriva l'autorizzazione, vuol dire che non ci sono le premesse per non darle, si può riprendere, in attesa di questa azienda, la ripresa viene sospesa. Volevi ricaricare il tema di questo. Il Consiglio è l'articola alle ore 8. Facciamo quasi 11. E' stata fatta una segnalazione prima per l'interruzione delle riprese. Così non è stato, si è andato avanti fino alle ore 11. Siamo in chiave relazione di uno degli articoli del nostro regolamento, nonché quindi della normativa sulla privacy, uno, richiedo la sospensione della legislazione, altrimenti inimediata, altrimenti deve esaminare il Consiglio perché siamo in una situazione illegitima e illegale, perduriamo in una situazione del genere, il punto di domanda che cosa si fa, lei in qualità del Vice Presidente mi saprà dare una pronta risposta, quindi chiedo la cancellazione della sospensione della legislazione della legislazione di avere una decisione illegale, cioè illegale per tutta la seduta. Non è la stessa. Considerando la situazione, considerando che stiamo attuando delle verifiche, io ho semplicemente chiesto di stare alla legisla, chiedo di parlare con lei, non sto parlando con lei, parlando con la persona con cui tra l'altro non dovrei neanche interlocuire perché il nostro regolamento non dovrebbe neanche con lei, c'è la confusione tra il Consigliere e i cittadini, a cui chiedo, prendete una volta, il rispetto di queste situazioni come noi rispettiamo i cittadini, e sto aspettando, nonostante non possa interlocuire, di vedere eventualmente, da qui non posso vedere se ne è spesa. Attualmente io non ho nessun tipo di autorizzazione da dare alla persona che attualmente sta riprendendo, quindi io le chiedo nuovamente di sospendere la ripresa e di attendere la votazione delle libri che permetteranno appunto la visione della ripresa di quanto la ripresa. A verbale, spingo perché sennò non vanno più a casa.